Ascolto, lusinghe, colpevolizzazione, isolamento sociale, promesse vuote e ancora controllo eccessivo, gaslighting, ritorsione delle emozioni, minacce, mancanze di rispetto, cambiamenti repentini di personalità e mancanza di reciprocità. Sai cosa sono? Sono tutti segnali che sta avvenendo una manipolazione all'interno della relazione. Adesso te li ripeto, andiamo in ordine così proviamo a raccontarli meglio singolarmente. Però l'importante è questo, capire che ognuno di noi altera il comportamento dell'altro all'interno di una relazione, ognuno di noi altera il proprio comportamento in funzione del comportamento dell'altro. E su questo non c'è niente da dire e soprattutto non ha nulla di male di per sé. Il problema è quando questa alterazione, questa trasformazione, questo cambiamento diventa strategico, ovvero non è spontaneo, legato al balletto relazionale che ognuno di noi fa quando si trova a vivere la propria coppia, la propria esperienza di coppia con qualcuno. Ma quando c'è una sorta di premeditazione nell'agir questo comportamento, o questi comportamenti che ora andiamo a vedere meglio, che si chiamano manipolazione, o quando nonostante non ci sia una consapevolezza esplicita, questo tipo di comportamento, questo tipo di atteggiamento, queste manipolazioni sono le vie maestre, cioè sono meccanismi nei quali la persona si rifugia per non mostrarsi. Non vuol dire che non abbia un interesse sincero, ma vuol dire che non si è mai messa sufficientemente in gioco per provare a mostrarsi senza strategie, senza preconcele, senza sovrastrutture. Ora andiamo in ordine, te li racconto meglio, sono tanti però insomma proviamo a fare una sintesi, e ti consiglio anche di andare a vedere il video sulle relazioni tossiche perché ho fatto una cosa simile, ossia ho preso alcuni elementi che rappresentano la tossicità di una relazione, in modo tale che possano aiutarti a far suonare qualche campanella d'allarme e dire ok attenzione qualcosina qua non sta funzionando. In questo video facciamo esattamente questo, ti spiego quali sono le principali tecniche di manipolazione, o le principali manipolazioni messe in atto all'interno di una relazione, in modo tale da capire se effettivamente il tuo partner le sta utilizzando, più o meno inconsapevolmente, poi insomma le decisioni e le considerazioni e valutazioni insomma le trarrai tu. Allora partiamo da quello che ho definito ascolto, questo è apparentemente banale ma anche un po' controintuitivo, perché come dice all'ascolto, come può essere che l'ascolto sia una manipolazione? Non è nel termine in cui intendi, per questo dico che è controintuitivo, l'ascolto è verso se stesse, ovvero la via maestra per capire se in qualche modo si è sottoposta da una manipolazione è capire questo, come mi sento dopo che ho parlato con questa persona? Come sto? Quali sono le emozioni che prevalgono in me? Sono felice? Sto bene? Mi sento in colpa? Mi sento sbagliato? Mi sento piccolo? Mi sento stupido? L'ascolto di sé si riesce a capire quanto e come ci si trova all'interno di una manipolazione. Punto numero due, le lusinghe, ovvero sono eccessive, sono sincere, sono spontanee, è chiaro che se ogni cosa che faccio viene rappresentata come splendida, meravigliosa, tutto estremamente melenso, allora probabilmente l'altro non me la sta raccontando tutta giusto. E non vuol dire necessariamente che la manipolazione sia maligna, sia chiaro, cioè ci può essere una forma di manipolazione che è anche legata principalmente ai meccanismi di difesa e alla statica dell'altra persona che non sapendo come esprimere le proprie emozioni magari tende a parire finto e fare un uso eccessivo delle lusinghe, faccio solo un esempio. Però è chiaro che all'interno di una manipolazione ci troviamo. Punto numero tre, isolamento sociale, facilissimo. Siamo solo io e te, o peggio ancora, quando io sono libero o quando io sono libera, pretendo che tu sia altrettanto, pretendo che tu rinunci ad esempio alle tue relazioni, alle tue frequentazioni in funzione di dare una priorità esclusiva a me. Colpebolizzazione, punto numero quattro, anche questa facilissima. Mi aspettavo di più, pensavo fossi diverso, pensavo fossi diversa. Se non fai questo, allora non mi dimostri il tuo uomo, oppure mi stai dicendo che in realtà non mi ami, ok? Questo fa il paio con le promesse vuote, penso sia il punto numero cinque. Le promesse vuote sono tutte quelle cose per cui ti prometto che cambierò, è stato solo un errore, voglio fare questo per te, vedrai che ad un certo punto riusciremo a, che vengono ripetute puntualmente, magari in momenti di slancio emotivo, ma che poi non sono supportate dai fatti. Una persona deve fare delle promesse all'interno di una relazione, più o meno esplicite, però le promesse sono alla base di ogni relazione, perché sono alla base della progettualità. Se però non sono supportate dai fatti, allora sono vuote e allora sono una manipolazione. Ti faccio vedere una parte di realtà che non corrisponde alla verità. Sei controllo eccessivo, che è una deriva ancora più tossica, se vogliamo, dell'isolamento sociale, cioè dove sei, cosa fai, fammi vedere il cellulare e via discorrendo. Gaslighting, non per inteso, insomma, il gaslighting classico. Se vuoi andare a vedere esattamente che cos'è il gaslighting, ho fatto un video proprio specifico ed esclusivo per questa forma di manipolazione, ma il gaslighting inteso come il tentativo di far dubitare il partner anche delle certezze, anche di ciò che in un qualche modo l'altro ritiene essere un caposaldo, un suo valore, una sua certezza, una sua sicurezza. Quante volte magari ti è capitato di dire all'interno di una relazione tossica non mi riconoscevo più, non capivo più chi ero, non capivo più se quello che pensavo era giusto, era sbagliato. Ok, così, ha a che fare con il gaslighting. Punto numero otto, ritorcere contro il manipolato le emozioni, quindi utilizzare, non so, la pietà, il senso di colpa, altre emozioni per far compiere a chi si sta manipolando ciò che si vuole. Punto numero nove, minacce, coercizione, obblighi, va da sé che c'è poco da spiegare. Punto numero dieci, mancanza di rispetto e mancanza di confini, ossia violare limiti personali, limiti privati. Questo avviene soprattutto all'inizio di una relazione, quando soprattutto chi lo usa in una maniera un po' più strategica e consapevole forza per capire fino a che punto può arrivare. Però ci sono delle violazioni, ad esempio i termini di privacy, entrare nel computer, controllare cose di questo tipo, rispondere al telefono di altri. Insomma, ognuno ha i suoi limiti e i suoi vincoli, ok? Manipolazione significa anche la violazione esplicita di questi limiti, di questi vincoli. Punto numero undici, cambiamenti repentini di personalità. Un giorno sono sul melo, l'altro sul pero. Passo da momenti di gioia, affabilità, spontaneità, a momenti estremamente critici, duri, distanzianti, a volte aggressivi. Cioè, dove si genera in chi è manipolato una sorta di paura. Cammino sulle uova in continuazione, proprio perché ho paura di questo cambio repentino di atteggiamento, cambio repentino di comportamento, ok? Ultimo, ma non ultimo per importanza, è la mancanza di reciprocità. Vuol dire che la relazione funziona solamente nella misura in cui è uno dei due, solitamente il manipolato, a far fatica, a mettersi in gioco, a mettersi in discussione. Si fanno esclusivamente le attività che vuole l'altra persona, si coltivano esclusivamente i suoi interessi, ci si prostra, in tutto e per tutto, ai suoi desideri. O comunque al soddisfacimento di questi, o il presunto soddisfacimento di questi. Questa è una condizione molto molto tipica della dipendenza affettiva. Vabbè, su questo, come sai, insomma, ci ho scritto un libro, quindi se vuoi approfondire lo trovi sostanzialmente ovunque, su Amazon è la via più veloce per poterlo prendere. Queste sono le modalità di manipolazione e soprattutto l'obiettivo di questo video era quello di riuscire a dare un quadro generale per riuscire a attivare, come ho detto all'inizio, qualche allarme, qualche allerta nel momento in cui ci si trova in situazioni come questa. Ripeto, può esserci un'azione, un utilizzo consapevole di queste o inconsapevole come meccanismo di difesa individuale da parte del manipolatore. È chiaro che però questo si traduce comunque in una disfunzionalità e in una fatica della relazione che deve essere portata soprattutto da poi chi si trova manipolato. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, fammi sapere se ti sei trovato o trovata, insomma, in situazioni di questo tipo. Ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessuna giornata. A presto!